Finalmente sono qui con l'Egregio Professor Boniardi, il Professor Marco Boniardi del Politecnico di Milano. Benvenuto Marco. Ciao Andrea, ciao a tutti i tuoi spettatori. Speriamo di fare qualcosa di utile e di furbo per tutti. Sicuramente lo faremo, ma soprattutto oggi parliamo di cose scoppiettanti, questo è il caso di dirlo. Esplosioni, insomma è anche il tuo argomento, quindi sono contento di averti qui e partiamo proprio da te, cioè chi è il Professor Boniardi? Il Professor Boniardi inizia a studiare ingegneria nel lontano 1983, dopo che avrebbe desiderato invece fare lettere filosofia con indirizzo storico, perché sono appassionato di storie, in particolare di storie militare, poi per questioni familiari mi hanno detto no ma guarda forse sarebbe più opportuno che tu avessi una laurea che ti permetta di fare un mestiere e quindi ho fatto ingegneria, mi sono specializzato nel settore dei materiali, nel settore della metallurgia e poi col passare del tempo ho comunque coltivato tutta una serie di competenze, di passioni, di interesse che mi hanno portato in tempi recenti a sviluppare all'interno del corso di laurea di ingegneria meccanica un orientamento che si chiama difesa e sicurezza e che gestisco io personalmente, ovviamente all'interno coordinato dal corso di studi in ingegneria meccanica e all'interno di questo orientamento io tengo insieme con un collega un insegnamento che si chiama fondamenti di balistica ed esplosivistica in cui cerchiamo di raccontare come dire le cose che sono note conosciute perché non è che raccontiamo cose strane, raccontiamo questioni che si trovano su tutti i libri, su tutti i documenti, su tutte le pubblicazioni scientifiche, sulle riviste di settore ma anche sulla rete perché come saprai sicuramente ormai sulla rete si trova di tutto e di più e quindi vale la pena di sottolineare questo fatto che quello che noi raccontiamo è quello che è anche a disposizione di tutti, cerchiamo di avere come dire un modo di fare una mediazione nei confronti degli studenti per evidenziare le cose più importanti ma questo è un po' l'argomento diciamo dei nostri corsi. Insomma è una premessa anche necessaria perché non potremo raccontare cose che non sono già pubblicamente note esattamente capiremo in qualche problema visto l'argomento abbastanza delicato. Prima però di insomma entrare nel mondo dei botti, delle esplosioni e degli scoppi cercheremo poi anche di capire la differenza ci spieghi, ci racconti oggi che cos'è l'ingegneria e che cos'è oggi nel mondo l'ingegnere perché la velocità insomma della tecnologia, il mondo cambia velocemente e quindi ci si chiede, qualcuno si chiederà ma l'ingegnere oggi a che serve? Il più importante del filosofo perché ormai serve il filosofo, l'intelligenza artificiale, ci dicono i filosofi sono gli ingegneri del futuro in pratica perché devono stabilire come far comportare la macchina quando incontra il famoso vecchio con i bambini, chi uccidere per primo no? Ma l'ingegneria invece che ruolo ha in questo nuovo mondo? Secondo me comunque l'ingegneria ha un ruolo fondamentale, io credo che io sono un ingegnere meccanico quindi magari qualcuno direbbe un ingegnere un po' vecchio perché la meccanica è una disciplina ormai molto consolidata però comunque ci sono un sacco di ambiti di grande interesse per esempio il settore della meccanica io penso al mio dipartimento c'è tutto un ambito legato all'automazione sia dei processi industriali ma anche all'automazione dei veicoli a guida autonoma che poi possono essere veicoli su ruote, i droni, veicoli che si muovono in acqua tutti a guida autonoma e anche questo è una tematica del settore della meccanica. Io penso al mio settore che è quello dei materiali, quello della tecnologia, esistono tutta una serie di tecnologie e di materiali innovativi, penso ad esempio alle tecnologie di manifattura additiva, di additive manufacturing per banalizzare la stampante 3D solo che invece che utilizzare la plastica si possono realizzare componenti e oggetti usando polveri metalliche e quindi realizzare componenti e oggetti che normalmente si realizzavano con la manifattura sottrattiva quindi si parte da un pezzo più grosso e attraverso le lavorazioni meccaniche si toglie del materiale in questo caso come si fa con la stampante 3D si aggiunge il materiale dove serve e ci sono anche dei vantaggi da un punto di vista economico di realizzare componenti del genere quindi anche all'interno di una disciplina che sembra tradizionale io credo che degli spunti di innovazione ci sono io penso comunque che e so che lo sostieni spesso nelle tue nelle tue live le discipline stem siano delle discipline importanti delle discipline fondamentali ecco qui mi discosto un po da quella che è la tua come dire le tue idee la tua opinione io credo anche che una solida base dal punto di vista umanistico quindi una formazione nel settore della storia della letteratura della filosofia cioè un ragionare al di là dei numeri e delle formule e delle questioni pratiche credo che possa essere di aiuto e di contributo per tutti ah ma è in questo senso io non è che pensi che non valga nulla o non serva semplicemente mi augurerei che ci sia in realtà una parte quella che manca secondo me quella tecnico scientifica ragionamento logico tecnico e scientifico anche a mio avviso nelle scuole denominate come scientifiche cioè il liceo scientifico penso in particolare non mi sembra una parte così sviluppata nel ragionamento tecnico e scientifico e questo è la cosa che critico non il fatto che ci siano ovviamente le materie umanistiche e storie eccetera questo è fondamentale sicuramente però mi sembra che nel mondo di oggi ecco manchi proprio una minimo di cultura tecnica anche semplicemente per affrontare le cose della vita quotidiana questo è il mio pensiero non so come la vedi tu sì sì sono d'accordo è giusta questa tua come dire spiegazione del del problema credo che noi abbiamo un problema di scarsa interazione tra queste tra queste discipline ad esempio ti faccio un esempio io per quelli che sono i miei interessi come penso qualcuno sa perché magari mi segue su altri canali in cui faccio in faccio delle live io come interesse di storia militare e a seguito di questi interessi collaboro con il professore emiliano berri dell'università di genova al corso di storia militare lui come estrazione è un umanista però lui ci tiene sempre a farmi fare una chiacchierata io la chiamo una chiacchierata una lezione sull'evoluzione storico militare nell'ottocento collegata in modo particolare con l'evoluzione tecnologica e ecco questa cosa qui questa integrazione questa sintesi che c'è da un lato da diciamo delle competenze tecniche dall'altro delle competenze umanistiche è quello che sarebbe l'ideale cioè anziché avere mondi separati che tra loro non si parlano credo che potrebbe essere una una soluzione una maggiore una maggiore sintesi delle delle due anime ecco mentre invece mi accorgo a volte che nella scuola sono mondi che vivono in modo separato e forse perché come dico anche i miei studenti la tecnica le formule le questioni spicciole magari sono un po sterili passano in secondo piano e risultano essere magari più affascinanti le questioni di tipo umanistico come diciamo precedentemente ecco sì su questo sono assolutamente d'accordo ma tra l'altro ho citato una cosa che mi interessa approfondire perché tu hai detto giustamente che qualcuno ti avrà visto su altri canali da altre parti in effetti tu su youtube da un po di tempo almeno questa parte ti fai vedere cioè tu su youtube sei parecchio presente mi viene da dire com'è che nasce questo interesse e che cosa trovi di questo mondo insomma che ti stimoli a ad entrarci e cosa hai fatto su youtube dove ti possono trovare anche gli altri video insomma di cui tu sì allora partiamo partiamo da quello che mi stimola e mi interessa allora io come credo si capisca arrivo dall'accademia che è un ambiente forse un paludato secondo qualcuno un po chiuso ecco io non ho mai pensato che noi non dovessimo aprirci verso il mondo esterno secondo me il mondo di youtube e dei chiamiamoli così divulgatori di youtube senza nulla togliere a questo termine che io considero un termine molto importante perché la divulgazione l'alta divulgazione è qualcosa di estremamente importante ti dà la possibilità appunto seguendo il mondo di youtube di conoscere tanta gente io in primis ritengo che tutti voi che fate questo tipo di lavoro facciate un'attività assolutamente meritoria perché vi fate un mazzo incredibile per portare avanti il vostro canale per riuscire a costruire a costruire a mettere dentro dei contenuti nuovi qualcosa di interessante ed è impegnativo come tu stesso hai citato io faccio video e quindi ho avuto modo di conoscere le persone che gestiscono questi canali in particolare non so mi viene in mente la domus orobica che è qui di bergamo anche lei mirko campocchiari del canale parabellum che mi sento di salutare so che avete avuto qualche battibecco però tanto quanto stimo te stimo lui per il lavoro che fate perché so benissimo l'impegno che ci vuole per portare avanti un canale lo stesso non so vlad spara storia vlad spara storia secondo me lui è bravissimo dal punto di vista delle questioni armiere delle questioni balistiche tant'è che mi sono messo in contatto con lui e gli ho chiesto di collaborare di darci una mano per questi corsi che noi facciamo al politecnico di milano per cui ad esempio ieri pomeriggio ero al tiro a segno di legnano con gli studenti che abbiamo fatto una serie di attività pratiche per esempio l'analisi dei residui di sparo che è una delle cose che si possono fare insieme con lui lui ovviamente lì fa l'attività di direttore di tiro sparava e quindi noi abbiamo recuperato poi fatto con gli studenti diciamo i residui di sparo che poi provvederemo ad analizzare in laboratorio con le strumentazioni adeguate un altro canale che mi piace citare è il canale parresia che è un canale con cui lavoro è il canale di luca al sabà che mi sembra persona di grande valore un altro canale interessante con cui ho cominciato a collaborare è il canale di giorgio cavallo che è il canale 800 sempre sulla storia del come capite la storia dell'ottocento ecco io ho questo interesse di tipo storico storico militare armiero esplosivistico per cui i canali che che diciamo con cui collaboro e che seguo sono sono un po questi poi ovviamente come puoi immaginare seguo tante cose io sono un curiosone per cui seguo tante cose non lo so seguo canali che che conosciamo tutti non so seguo pubble ad esempio seguo anche boldrin seguo l'avvocato catania seguo non mi faccio ma io credo perché il problema di fondo penso che sia questo io credo che ci debba essere la libertà di informazione fosse per me non vieterei nessun video sui canali perché poi io sono sono molto convinto che sono le persone stesse che devono crescere e tu cresci attraverso la conoscenza che hai acquisito sentendo tante persone parlare attorno a un problema no per cui sei tu che poi devi fare da filtro no e quindi a me va bene anche quelli che parlano della terra piatta per così diciamo non li seguo però ci stanno anche quelli cioè poi alla fine ognuno di noi nell'ambito di quelle che sono le sue conoscenze competenze intelligenza prende le misure o meno in base a quello che viene da io non è che sia sempre d'accordo che so parliamo parliamo di te io non è che sia sempre d'accordo di quello che racconti meno male come non sono sempre d'accordo di quello che sento su altri canali e così via cioè non sono sempre d'accordo con quello che dice mirko su parabellum con quello che dice pubble sul suo canale con quello che dice orsi sul suo canale con quello che dice boldrin cioè però li ascolto perché è giusto che ogni persona senta tutte le campane ah no su questo sono assolutamente d'accordo infatti uno dei problemi a mio avviso della non della piattaforma di youtube in italia per come è fatto in italia è che si tende ad appiattire tutto quanto infatti questo secondo me è una delle piaghe della chiamiamola del capitolo italiano di youtube ed è una cosa in effetti un po' italiana però sul resto sono perfettamente d'accordo con te parliamo di esplosione arriviamo al dunque innanzitutto com'è che ti sei interessato alla faccenda ora io parlo da bombarolo mancato ho sempre adorato far esplodere qualsiasi cosa in qualsiasi modo possibile poi non ho fatto una carriera evidentemente né nella malavita né in quella invece in chiaro come diciamo hai fatto tu quindi capisco la in realtà il perché queste cose siano belle e possano appassionare ma è solo quello o c'è dell'altro beh allora come premessa c'è un fascino da parte di tutti credo gli esseri umani di sesso maschile o di genere maschile adesso non so come sia giusto mettere la cosa senza che ci offenda nessuno per cui c'è questa idea no di questo fascino particolare degli esplosivi anche io quando ero piccolo ho fatto delle cose che fortunatamente non hanno provocato conseguenze e quindi no diciamo dal punto di vista professionale il mio interesse per queste cose deriva come sempre dalla conoscenza con qualche persona in particolare io devo ringraziare due persone che sono uno il professor carlo ortolani che è classe 1942 lui io e lui eravamo seduti insieme fianco a fianco nel senato senato accademico alla fine degli anni 90 e sai tutte le settimane c'era una riunione del senato accademico e un giorno lui mi parlava del golf perché giocava golf un giorno io gli parlavo dei soldatini perché io dipingevo e dipingo ancora adesso soldatini poi alla fine lui mi parla delle esplosioni io gli dico che mi interesso di certe cose e quindi da lì ho cominciato grosso modo nel 1999 a interessarmi di quelle che si chiamano le esplosioni accidentali varia a dire le esplosioni nel settore diciamo in senso lato civile cioè le esplosioni legate a fughe di gas ad esempio o esplosioni da polveri di cui avremo occasione di parlare esplosioni da da vapori di liquidi combustibili che che danno origine a dei danni a delle problematiche che poi è necessario affrontare considerare investigare capire per quale motivo si sono sviluppate si sono sviluppati certi fenomeni perché queste cose qui hanno come potete immaginare una ricaduta di tipo legale e quindi di tipo tecnico legale per capire la problematica e così via questo da un lato dall'altro lato poi verso il 2015 2016 ho cominciato a interagire con i carabinieri del ris in particolare la sezione di roma non so se i tuoi spettatori collegati sappiano in italia ris sono i ris sono quattro c'è il più noto che è parma poi c'è anche cagliari messina e poi c'è il comando dei ris dove c'è anche il racis che è il raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche che sta a roma conosco bene alcune persone anzi mi sento di salutarli mi sento di salutare per esempio il colonnello schiavone che è il comandante del ris il tenente colonnello abate che con cui avevo collaborato abbiamo cominciato a fare delle cose legate alla balistica e poi quasi contemporaneamente sono entrato in contatto con danilo coppe danilo coppe credo che sia almeno secondo me è il più importante esplosivista che abbiamo in italia è la persona per fare riferimento a una cosa che lui ha fatto e di portata nazionale che ha tirato giù con l'esplosivo i due monconi del ponte morandi dopo che c'era stato il il noto disastro ecco ho avuto modo di collaborare con lui abbiamo fatto anche qualche cosa legato alla strage di bologna e sono andato da io ogni tanto vado da lui perché tiene corsi di formazione e vado a sentire anzi se se qualcuno interessato lui ogni tanto fa degli specie di open day nell'ire si chiama istituto ricerche esplosivistiche che sta a parma e fa vedere la raccolta di materiale che ha a disposizione che secondo me è interessantissimo anzi avevo anche accennato in passato che forse varrebbe la pena andare a fare qualche ripresa perché ci sono cose veramente veramente interessanti io lo ringrazio diciamo io ringrazio queste due persone quindi da un lato carlo ortolani e dall'altro danilo coppe che è quasi mio coetaneo solo che è da una vita che si occupa di queste cose lui è del classe 63 io sono classe 64 però sono tutte persone con cui se ho un problema anche ieri sera ogni tanto ci scriviamo delle cose per cui se ho un problema perché sto studiando sto approfondendo e quindi è comunque importante la rete di contatti e di persone che si interessano di problematiche comuni perché è il modo migliore che ognuno di noi ha di imparare e di crescere culturalmente entriamo proprio nell'argomento no allora perché le persone quando magari così in un colloquio così senza particolare velleità tecnica uno parla di esplosioni in senso generale ma io mi chiedo e ti chiedo cos'è un'esplosione perché dobbiamo definire ovviamente di che cosa stiamo parlando c'è differenza tra un palloncino che scoppia quando mi avvicino con l'ago e lo faccio scoppiare un petardo una bomba a mano e vorrei dire anche c'è differenza con un cerino che si accende cioè lo stesso fenomeno più veloce che cosa cambia tra queste cose allora sono fenomeni molto diversi tra loro e ahimè purtroppo giornalisticamente vengono usati termini in modo intercambiabile per cui si parla di scoppio si parla di esplosione si parla di deflagrazione di detonazione quando invece da un punto di vista meramente tecnico sono fenomeni ben definiti lo scoppio tipicamente è il collasso meccanico è il collasso meccanico dovuto a un sovraccarico banalmente per per intenderci per per capire la cosa scoppia la gomma di una bicicletta scoppia il palloncino perché come dicevi tu io vado lì a bucarlo con un ago e il palloncino scoppia cioè localmente la sezione del palloncino si riduce perché io vado a bucarlo e quindi la pressione contenuta internamente sfoga verso l'esterno anche con un certo rumore perché quando c'è una lacerazione c'è una liberazione di energia meccanica che noi percepiamo con un rumore con un'onda sonora e questo è tipicamente uno scoppio quindi è un fenomeno meccanico è un fenomeno meccanico si dice anche lento si dice statico quasi stati altra cosa invece è un'esplosione allora il problema è che chi si occupa di esplosioni non parla quasi mai di esplosione in sé ma parla di fenomeni di combustione cioè che cos'è un'esplosione un'esplosione non è altro che l'effetto di una causa che si chiama combustione cos'è la combustione è una reazione tra un combustibile e un comburente quindi tra una sostanza che può bruciare il combustibile è una sostanza che fornisce l'ossigeno cioè il comburente quindi banalmente l'aria ora capite benissimo che una reazione di combustione però potrebbe dare origine sia un'esplosione che a un incendio qual è la differenza tra i due la differenza tra i due è la velocità con cui avviene la reazione se la reazione di combustione cioè questa reazione di ossidazione molto rapida tra il combustibile e il comburente avviene come come stavo dicendo velocemente in tempi molto brevi l'energia liberata perché qualunque reazione di ossidazione libera dell'energia l'energia liberata è consistente in tempi molto brevi e questo dà origine a effetti esplosivi quindi la causa è la combustione uno degli effetti è l'esplosione l'altro effetto è invece l'incendio l'incendio che cos'è è lo stesso tipo di fenomeno quindi una reazione tra un combustibile un comburente qualcosa che brucia ma brucia più lentamente e questo dà origine a un altro fenomeno che si chiama incendio infatti generalmente chi si occupa di esplosioni si occupa anche di incendi perché sono due manifestazioni della medesima causa la differenza è la velocità con cui il fenomeno avviene e quindi scusami quando si parla invece sempre in termini giornalistici di esplosione deflagrazione detonazione anche questi termini hanno un significato particolare vengono usati a caso oppure sono sinonimi si vengono usati a caso per non dire un'altra un'altra parola che comincia con la c deflagrazione e detonazione sono due fenomeni completamente diversi come dicevamo prima un'esplosione è un fenomeno in cui è importante la velocità con cui avviene la reazione bene se questa velocità con cui la reazione pensate a una miscela come capita a volte in alcuni incidenti domestici o industriali una miscela di aria e metano che si può sviluppare all'interno di un'abitazione ecco se questo fenomeno si sviluppa cioè questa reazione evolve velocemente ma con una velocità che è inferiore alla velocità del suono nella miscela di gas che facciamo finta che sia come l'aria la velocità del suono in aria è 340 dipende dalla temperatura ma è 340 metri al secondo se siamo a velocità inferiore ai 340 metri al secondo si parla di deflagrazione se invece la velocità è molto superiore a questi 340 metri al secondo si parla di detonazione tipicamente non è sempre vero perché sicuramente se c'è qualche collega o qualche specialista di queste cose potrebbe dire no ma non è vero perché possono avvenire fenomeni di detonazione anche in miscele gassose tipicamente le esplosioni accidentali quelle legate a miscele gassose a polveri dispersi in atmosfera sono delle deflagrazioni quelle invece legate agli esplosivi veri e propri sia quelli per uso militare che per uso civile sto pensando alla dinamite sto pensando al tnt il trinitrotoluene sto pensando al nitroglicerina quello un po tutti gli esplosivi il c4 il sentex queste tipologie di esplosivo che che esistono quelle invece sono detonazioni ok quindi è un problema di velocità quindi non è corretto usare il termine detonazione per esempio esplode una casa per una fuga di gas il termine detonazione non andrebbe mai usato perché nel 99,9 per cento dei casi è una deflagrazione legato a una fuga di gas e quindi è un esplosivo infatti quello che dico anche ai miei studenti perché poi queste cose per esempio le racconto al quintanno io faccio un corso in cui spiego ai ragazzi come si rompono le cose per banalizzare il corso si chiama failure analysis per cui gli parlo dei cedimenti statici delle rotture per fatica dei danneggiamenti per corrosione dell'usura gli parlo anche degli scoppi e delle esplosioni gli dico guardate quando avete a che fare con un fenomeno del genere parlate sempre di esplosione che è il termine più generico ma il termine più corretto perché il termine deflagrazione o detonazione evidenziano aspetti diversi del medesimo problema perché il detonatore si chiama detonatore questo crea confusione cioè qualcuno pensa che la detonazione sia quel fenomeno che dà vita o diciamo a una serie di esplosioni per simpatia eccetera perché innesca chiamiamolo così ecco è sinonimo di innesco è perché viene utilizzato un esplosivo che ha una velocità molto elevata perché deve stimolare esatto perché qui è questo è il mondo degli esplosivi sia civili degli esplosivi detonanti quelli quindi quelli sia civili che quelli militari e contrariamente a che so quello che si vede anche nei film e vale la pena raccontarlo perché almeno uno ha contezza di questo problema tutti gli esplosivi sia civili soprattutto quelli militari sono estremamente stabili è molto difficile riuscire a far partire un'esplosione in un candelotto di dinamite o in un blocco di tritolo tnt tnt o tritolo perché sono esplosivi stabili e c'è un motivo perché devono venire maneggiati dai militari che non li trattano benissimo e quindi e quindi devono essere estremamente stabili anzi il problema degli esplosivi storicamente degli esplosivi diciamo degli esplosivi detonanti è stato proprio questo quello di renderli stabili chi ha inventato diciamo la disciplina dell'esplosivistica è un po è alfred nobel che è l'inventore della dinamite partendo da magari ne parleremo successivamente dalla scoperta di escanio sobrero della nitroglicerina lui poi è riuscito a flemmatizzare la dinamite vale a dire rendere scusate flemmatizzare la nitroglicerina vale a dire rendere stabile la nitroglicerina ottenendo i candelotti di dinamite bene questa stabilità è tale per cui ad esempio facciamo una considerazione di carattere generale se io brucio prendo un candelotto di dinamite e lo metto su un fuoco non succede nulla brucia il candelotto di dinamite brucia e non esplode perché è un esplosivo estremamente stabile se io ad esempio sparo su un candelotto di dinamite uno è abituato a vedere in televisione dice ma chissà cosa non succede quasi a meno di situazioni molto particolari non succede nulla perché è estremamente stabile l'unico modo per far partire una detonazione in questi esplosivi è inserire un detonatore che è una matitina di metallo una capsulina di metallo con all'interno lì sì un esplosivo estremamente sensibile e sensibile al calore per cui parte la detonazione poi dell'esplosivo all'interno del quale il detonatore è inserito per come dicevi tu per simpatia cioè l'esplosivo primario che è presente all'interno del detonatore sviluppa un'onda di pressione detto un'onda d'urto detonante che si trasferisce all'esplosivo vero e proprio al candelotto di dinamite al tritolo e lo fa esplodere perché altrimenti senza di questo questi esplosivi sarebbero stabilissimi questo c'è in tutte le le cariche non so per esempio penso alle granate d'artiglieria c'è comunque un innesco la spoletta contiene un innesco per far partire la detonazione perché se no non partirebbe non so se sono stato chiaro magari sono stato un po' articolato nel racconto ma no 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 chiarissimo però agli esplosivi militari credo che ci arriveremo dopo voglio portarti su un altro argomento che è quello invece che è più forse comune e pericoloso perché ha a che fare con tutti noi sì volenti o non lenti sperabilmente no e sono del mondo delle esplosioni accidentali cioè esplosioni non provocate da esplosivi propriamente detti come quel di cui abbiamo parlato adesso ma sostanze di uso comune gas metano è quello più banale che ci può venire in mente ma in realtà ci sono anche altre situazioni magari non non comuni o non ricondotte diciamo ad un pericolo di esplosione che però sono reali come per esempio le polveri le farine anche semplicemente no ecco quali sono le condizioni in cui un'esplosione accidentale si può verificare quali sono appunto le sostanze più rischiose come si può evitare di saltare per aria insieme allora quando si parla di esplosioni si fa sempre questo esempio il classico esempio del triangolo del fuoco cioè si dice per avere un fenomeno di combustione io devo avere un combustibile un comburente un innesco e questa cosa è vera come dicevamo prima sia per un incendio che per un'esplosione ora esplosione accidentali quali sono le sostanze che possono bruciare perché combustione vuol dire bruciare che possono bruciare a contatto con l'aria per esempio dei gas ci sono dei gas che sono combustibili tu citavi il metano ma ce ne sono tanti di gas che che possono bruciare ma la cosa forse più curiosa interessante è che ci sono un sacco di polveri in generale tutte le polveri delle sostanze organiche sono combustibili per cui la farina è un combustibile il mais è un combustibile lo zucchero è un combustibile ora per parlare ai tuoi spettatori che nessuno si preoccupi che il barattolo di zucchero o di farina che avete in casa dall'oggi al domani esploda per avere un'esplosione io devo avere una dispersione di questa polvere in sospensione in atmosfera quindi devo miscelare per avere l'esplosione io devo avere sempre una miscela un insieme il più omogeneo possibile tra il combustibile il comburente ovviamente con un gas è facile perché i gas tendono a mescolarsi facilmente tra di loro quindi quando avete una fuga di gas metano in casa il metano si mescola con con l'aria e quindi da origine può dare origine a una miscela esplosiva e la stessa cosa può avvenire può avvenire con le polveri infatti il problema delle esplosioni da polveri non è a casa propria il problema delle esplosioni da polveri è dove queste polveri vengono preparate per cui esistono in letteratura come si dì come diciamo noi tecnici insomma esistono certificate delle esplosioni dove ci sono impianti di produzione dello zucchero e della farina perché se vi sono delle scariche elettriche delle scintille che possono innescare perché ci vuole l'innesco come dicevo prima ci vuole combustibile comburente ma ci vuole anche l'innesco che possono innescare il fenomeno può partire le esplosioni guardate che banalmente un innesco è una cosa da poco è sufficiente la superficie calda di una lampadina per cui in molti casi a me è capitato di vedere alcuni casi in cui uno inavvertitamente ha una perdita di gas in casa tipicamente il metano il metano è più leggero quindi va verso l'alto si miscela con l'aria tu sei a letto a dormire non la cosa non la senti perché se sei a livello più basso e quindi respiri aria normalmente ti sveglia la mattina per andare in bagno accendi la luce del bagno salta per la casa questo è un evento che che può capitare ecco ci sono dei casi in cui questo è capitato oppure anche suonano il campanello a all'ingresso e salta per la casa perché la scintilla del campanello è sufficiente per innescare la reazione o anche il l'attacca e stacca del frigorifero avete presente che ogni tanto il frigorifero attacca per far partire il sistema di raffreddamento ecco la piccola scintilla perché le energie per innescare l'esplosione sono veramente piccole nel caso di queste esplosioni accidentali è più che sufficiente quindi quello che si dice il modo migliore per prevenire un'esplosione è prevenire la formazione di una miscela tra il combustibile e il comburente perché quando la miscela è giusta per esplodere salta per aria perché l'innesco se lo trova per conto suo apparentemente non sembra una cosa così semplice perché l'ultima cosa che hai detto in realtà è fondamentale cioè ci deve essere un rapporto specchiometrico diciamo tra le sostanze quindi tra l'ossigeno esatto e il gas in questo caso qualsiasi altro combustibile e quindi uno dice ok se c'è troppo gas non si innesca se ce n'è troppo poco comunque non può bruciare o eventualmente può bruciare male una piccola zona e distinguersi da solo la realtà qual è in verità è facile raggiungere quel rapporto è facile ottenere quella miscela che sia per l'appunto esplosiva allora è correttissimo quello che tu osservi passiamo parliamo partendo da un paragone il motore a combustione interna che non è motore a scoppio perché scoppio vuol dire un'altra cosa motore a combustione interna il motore a combustione interna per funzionare all'interno del sistema pistone cilindro avviene la combustione di una miscela tra l'aria e il combustibile che viene bruciato e come sanno tutti quelli che si interessano del settore automotive ci vogliono dei rapporti di miscela corretti cioè una certa quantità di combustibile di comburente se no la miscela è si dice troppo grassa se c'è dentro troppo combustibile troppo magra se c'è dentro troppa aria la stessa cosa vale per le esplosioni si definisce per esempio nel caso dei gas il cosiddetto limite inferiore limite superiore di infiammabilità vedete che usano termini non lo chiamano di esplosività ma di infiammabilità perché il fenomeno è la causa di tutto è la combustione quindi quando si parla tecnicamente ci si riferisce alle cause gli effetti poi sono una conseguenza limite superiore limite inferiore di infiammabilità che ad esempio per il metano in aria è tra il 5 e il 15 per cento in volume vuol dire che se io ho una stanza in cui voglio creare una miscela esplosiva io faccio la volumetria di quella stanza e tra il 5 e il 15 per cento in volume di metano dentro a quella stanza rispetto al resto che è aria io ho una miscela esplosiva ovviamente il 5 per cento è così tranquillizziamo chi ci ascolta è una percentuale molto elevata penso tutti sappiano che il metano è in colore in odore quindi io non sentirei nulla se avesse una perdita in casa e per questo motivo il metano è volutamente odorizzato quindi vengono aggiunte delle sostanze per farlo puzzare in modo tale che tu quando senti l'odore dice ma c'è puzza di gas non è che stai sentendo l'odore del gas senti l'odore dell'odorizzante che è stato aggiunto e ti accorgi che c'è una perdita bene una cosa che racconto anche i miei studenti guardate che la sensibilità del naso umano è di ordini di grandezza superiori a quelle percentuali di cui parlavamo prima quindi la perdita deve essere davvero consistente per avere un problema di questo geno ok non so se sono riuscito e poi ogni sostanza ha le i suoi il suo intervallo di miscela per esempio l'idrogeno che è considerata una sostanza capite anche adesso quando vi do i numeri più pericolosa del metano ha un intervallo di infiammabilità che va dal 4 5 adesso non ricordo 6 4 5 per cento come minimo fino al 75 per cento l'acetilene va dal 2 al 100 per cento ora ci sono varie considerazioni da fare perché ci sarebbero tante considerazioni da questo è diciamo è una considerazione di carattere generale però in prima battuta se io devo considerare la pericolosità di un gas combustibile prendo l'intervallo di infiammabilità e mi dà una valutazione abbastanza ragionevole del problema ok chiaro che cosa succede quando malauguratamente questa condizione si verifica c'è un innesco quindi una lampadina una scintilla di un interruttore quello che è e la reazione inizia hai detto prima che queste vengono definite reazioni lente ma all'interno di una stanza chiusa innanzitutto di che velocità parliamo cioè quanto subsoni che sono in secondo luogo come esperienza comune quando si confina diciamo una espansione diciamo si banalmente si diciamo rigira il petardo nello scotch per fargli fare il botto più forte appunto quello che succede è quello che si fa il botto più forte quindi c'è una differenza diciamo quando questo avviene in aria libera quando questo avviene all'interno di una stanza che effetti crea hai detto bene parlando del botto perché se uno vuole farsi male adesso non vorrei se tu fai scoppiare anche banalmente la micetta tenendotela stretta nel palmo della mano facendola sto usando un termine improprio facendola esplodere sulla mano libera gli effetti sono diversi perché quando tu stai contenendo il fenomeno e anche nel caso della micetta stiamo parlando di un fenomeno di deflagrazione hai degli effetti sul diciamo l'involucro il sistema che sta contenendo l'esplosione che sono ben diverse rispetto al caso in cui tu stai facendo esplodere la micetta sulla mano la domanda curiosità questo vale solo per le deflagrazioni o questo vale questo vale solo per le deflagrazioni perché nelle detonazioni non è così nelle detonazioni magari lo vedremo successivamente il problema c'è sempre sia che tu abbia un involucro un sistema che sta contenendo il fenomeno sia che tu sia all'aperto perché l'onda di detonazione essendo supersonica comunque investe le cose e le persone e provoca dei danni cosa che invece non avviene nelle deflagrazioni nelle deflagrazioni e andiamo avanti sul ragionamento che mi chiedevi quando tu hai una deflagrazione in un volume si dice in termine tecnico chiuso o parzialmente confinato come la stanza di un edificio che cosa succede hai una reazione di combustione rapida la temperatura sale velocemente siccome valgono delle leggi legate ai gas per cui ha un aumento di temperatura deve corrispondere contemporaneamente un aumento del prodotto della pressione per il volume se il volume rimane pressoché costante perché l'esplosione sta avvenendo all'interno di un sistema chiuso o parzialmente confinato l'unica possibilità che ha il sistema di di salire di compensare l'aumento di temperatura è compensare l'aumento di pressione stiamo parlando di velocità di reazioni come dicevi tu lente quindi 10 da 10 100 200 metri al secondo e sovra pressioni che si raggiungono che sono basse stiamo parlando da 100 millibar a un bar quindi da 0 1 a un bar quindi una la pressione atmosferica è un bar è una pressione che è una volta in più rispetto alla pressione atmosferica quindi da 1 si passa a 2 si dice la sovra pressione quindi poca roba non fa molti danni questa roba qui i miei studenti io gli faccio sempre l'esempio e dico ragazzi a qual è la pressione a cui scoppia un palloncino scoppia un palloncino e loro ci pensano mi dicono numeri stranissimi poi gli dicono ma guardate palloncino scoppia un paio di bar no una sovra pressione di un paio di bar quindi 1 palloncino 3 sovra pressione 2 dico e la casa quando scoppia dico guarda a volte basta un bar di sovra pressione o addirittura mezzo bar di sovra pressione dico ma allora è meno pericoloso e loro mi dicono beh sì effettivamente se la pressione è più bassa e no perché il problema della pressione è che le pressioni si scaricano su una superficie quindi su una superficie di alcuni metri quadrati una sovra pressione cioè una pressione maggiore rispetto alla pressione atmosferica anche di poco genera delle spinte delle forze dell'ordine di qualche tonnellata io gli faccio vedere con un esercizietto questa cosa e vengono fuori spinte di una tonnellata e qualunque edificio non tiene spinte orizzontali di qualche tonnellata non è un bunker casa nostra e quindi e quindi viene giù tutto la stessa cosa invece non succede all'aperto perché la reazione è la stessa la temperatura sale velocemente ma all'aperto il volume può espandersi può cambiare quindi a meno di situazioni molto particolari che si chiamano un confined vapor cloud explosion che non approfondiamo una cosa un po particolare a meno di situazioni molto particolari all'aperto le deflagrazioni non producono nulla questo caso che hai citato è per esempio quello che accade a via reggio per esempio è quello che accade a via reggio per quanto riguarda invece i liquidi perché abbiamo parlato di gas adesso il gas è facilmente intuibile si miscela nell'aria e insomma ed è un fenomeno che leggiamo quanto meno spesso sui giornali però i liquidi come si comportano liquidi intendo dire sostanze come l'alcol ovviamente o addirittura più volatili come la benzina la benzina esplode o in certe condizioni effettivamente brucia le esperienze quotidiane ci sono i fornelletti a benzina dipende da che cosa e quando diventa pericolosa allora sempre tu hai un fenomeno di combustione o di esplosione se hai o non hai miscelazione per cui se il combustibile e il combustibile sono ben miscelati tra di loro tu hai l'esplosione la perdita di metano in aria il metano si miscela con l'aria hai l'esplosione il metano che esce dal fornello tu vai con con un lucerino con un accendino o con la scarica elettrica del fornello si accende il gas perché lì è un flusso di metano che sta uscendo entra in contatto con l'aria ma non è completamente miscelato è un fronte in avanzamento del gas la stessa cosa succede con i liquidi tu puoi avere una tannica di benzina e puoi dare fuoco puoi bruciare il pelo libero della benzina oppure che cosa succede qual è il problema dei liquidi problema dei liquidi è l'evaporazione per cui hai quelle che si chiamano le temperature di flashpoint è una temperatura al di sopra della quale il liquido combustibile comincia a sviluppare dei vapori che si miscelano nell'aria e questo può dare origine a una miscela combustibile di tipo esplosivo e il problema è questo quindi non è tanto la sostanza combustibile quando è liquida ma i suoi vapori che si liberano per cui ad esempio siccome il gasolio ha una temperatura di flashpoint di 65 gradi mentre la benzina ha una temperatura di flashpoint di meno 20 gradi vuol dire che la benzina questi vapori a temperatura ambiente li sviluppa il gasolio è molto più stabile il gasolio non ha grossi problemi da questo punto di vista ok e anche questo è come dire un problema che vale la pena di di evidenziare poi ci sono tante questioni tecniche di dettaglio perché anche nel caso dei combustibili liquidi bisogna raggiungere un limite inferiore un limite superiore di infiammabilità come nel caso dei gas per avere l'esplosione ma il fenomeno è come dire classificabile in base a la temperatura di flashpoint che peraltro è anche la tempo è anche un parametro per definire quanto un liquido combustibile sia o meno pericoloso non so se sono riuscito chiaro chiaro per quanto riguarda le polveri invece ci sono dei casi noti di incidenti ed esplosioni che hanno si sono verificati magari industrialmente ecco sì ci sono allora ci sono dei casi e infatti io ho lasciato poi la presentazione che uso anche per i miei studenti se vuoi cannibalizzare qualche immagine per esempio io faccio sempre vedere questa esplosione di un una fabbrica di produzione di zucchero nel 2008 negli stati uniti una fabbrica di produzione di polveri polimeriche quindi materie plastiche sempre negli stati uniti nel 2003 ma ti racconto una ti leggo una cosa interessante l'altro giorno per le mie come dire le mie insane manie di storia militare stavo leggendo la rivista di artiglieria e genio del 1890 una cosa del genere e ho trovato questo articolo che parla di esplosioni per esempio dice il 9 luglio 1872 un grande molino nei dintorni di Glasgow fu teatro di un'esplosione che uccise e ferì molte persone e rovesciò i muri esterni dell'edificio all'interno del quale invaso dalle fiamme fu in breve distrutto oppure il 2 maggio 1878 avvenne un disastro simile nei grandiosi mulini di Minneapolis l'esplosione originatasi in uno di essi si propagò per mezzo delle fiamme successivamente altri due i muri grossi un metro 80 alla base furono rasi al suolo le lamiere di ferro ondulato del tetto lanciate a più di tre chilometri di distanza una colonna di fumo e fiamme si alzò ad oltre 200 metri l'inchiesta stabilì che il disastro era da attribuirsi al calore sviluppatosi per l'attrito fra due macine a cui era mancata l'alimentazione e il quale aveva determinato l'accensione della circostante miscela di aria e di fine polvere di farina questa cosa qui anche queste sono cose che racconto i miei studenti i primi casi registrati storicamente di esplosioni accidentali come le abbiamo chiamate come si chiamano anche in ambito tecnico risalgono addirittura al 700 alla metà del 700 in francia per cui sono registrate dell'esplosione in mulini che macinavano la farina la farina va in sospensione qualunque polvere combustibile può dare questo problema tant'è che esiste una normativa che si chiama normativa atex che chi lavora in questo settore conosce benissimo atex sta per atmosfere esplosive quindi la normativa sulle atmosfere esplosive che prende in considerazione tutti gli ambiti industriali in cui ci può essere una miscelazione tra una polvere esplosiva e una e l'aria e quindi di conseguenza tutti i macchinari tutte le attrezzature tutti i sistemi di sicurezza devono essere tra le altre cose devono essere pensati anche per il problema dell'esplosione interessante e poco conosciuto forse da questa cosa qui però ovviamente l'uomo che è più intelligente degli altri ha imparato a incanalare e utilizzare questi fenomeni naturali anche avversi perché uno non vuole che gli salti in aria il mulino in realtà tornando molto più indietro nella storia abbiamo scoperto molto prima dei mulini che le cose esplodevano e l'abbiamo trovato anche diciamo oltre che divertente anche utile sotto certi punti di vista perlomeno e quindi ci siamo organizzati per controllare questo fenomeno ora sappiamo che diciamo Nobel è noto anche per il premio ha inventato la dinamite ma non è la dinamite il primo esplosivo della storia ci fai una piccola carrellata storica dell'evoluzione dell'utilizzo degli esplosivi correggimi se sbaglio ma credo che i due ambiti per cui queste tecnologie sono state sviluppate sono l'industria mineraria e la guerra non so quale venga prima suppongo la guerra sì perché purtroppo come come dico di solito anche quando faccio altre live dico che gli esseri umani si inventano i sistemi più incredibili per farsi del male reciprocamente io che sono una persona estremamente pacifica mi interesso di queste cose e credo di raccontare queste cose perché è giusto che le persone conoscano i problemi e quando tu conosci un problema puoi avere un approccio sereno nei confronti di queste cose è un po l'esempio che faccio spesso è quello della malattia cioè la malattia è una cosa brutta però noi dobbiamo studiarla perché dobbiamo curare gli uomini quindi noi dobbiamo occuparci delle armi degli esplosivi della guerra ma non perché abbiamo questa l'abbiamo banalizzata prima insana passione nei confronti di queste cose di questo fenomeno ma perché il modo migliore che abbiamo di esorcizzare una cosa che io ritengo sbagliatissima perché la soluzione bellica la soluzione militare è sempre la soluzione estrema e l'estrema razio di qualsiasi discussione sana e serena a quattro occhi attorno a un tavolo tu la puoi esorcizzare solo nel momento in cui conosci qualcosa quindi non è che puoi dire ma io questa cosa non la voglio neanche vedere perché così se io non la vedo non esiste perché non è vero non è semplicemente non è vero c'è qualcosa è meglio che te ne occupi come diceva qualcuno no la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in mano solo ai militari e questa cosa secondo me vale per la guerra per le armi per gli esplosivi e così via anche perché e mi riallaccio quello che mi dicevi tu per fortuna che ci sono stati gli esplosivi perché l'invenzione di nobel quindi la flemmatizzazione della nitroglicerina e l'ottenimento della dinamite ha dato una propria una spinta propulsiva alla chiamiamola seconda rivoluzione industriale quella della della seconda metà dell'ottocento perché nella seconda metà dell'ottocento c'era grande necessità grande richiesta di minerale ferroso per produrre acciaio questa cosa qui tu la ottieni nelle miniere che si chiamano miniere non come pensiamo tutti perché ci sono i minatori che vanno a scavare si chiamano miniere perché venivano messe le mine per fare esplodere le rocce per aprire dei varchi e per poter cavare dalla miniera il materiale che poteva poi essere successivamente in processi in impianti prodotti io faccio metallurgia e soprattutto sono un ferraiolo come dico di solito per cui mi occupo di acciaio veniva trasformato dal minerale di ferro all'acciaio e veniva usato per tantissime applicazioni sia nel settore civile che anche nel settore militare per cui per fortuna che c'è stato alfred nobel con l'invenzione della dinamite che è un esplosivo che è usato in ambito civile di solito si sente dire ed è come dice il mio amico danilo coppa è una grandissima cazzata ed è vero che nobel si sia un po pentito della sua invenzione e come conseguenza abbia istituito il premio nobel con una sorta di di una specie di funzione apotropaica però non è vero non è vero perché nobel faceva si occupava dell'ambito civile lui lavorava nel settore minerario andava in giro a spiegare alla gente che fino a poco tempo prima usava un esplosivo estremamente pericoloso di cui poi parleremo che è la polvere nera come si potevano usare i suoi esplosivi che quando sono stati ottimizzati cioè quando ho ottenuto i candelotti di dinamite erano estremamente sicuri per quello che dicevamo all'inizio perché sono estremamente stabili e quindi tu per far partire l'esplosione devi usare un detonatore e qual è quindi il primo il primo è come dicevo il primo esplosivo usato è la polvere nera che è un esplosivo deflagrante che è una miscela tra nitrato di potassio il sal nitro la muffa dei muri che è un sale un sale del potassio il carbone e lo zolfo ed è una polvere pirica un esplosivo deflagrante si dice inventato dai cinesi e poi importato in europa io sinceramente sulla provenienza mi interessa relativamente però esiste in europa c'è è consolidata la conoscenza di questo esplosivo anche in ambito militare almeno grosso modo dal 1300 1400 se ne comincia a fare uso e poi si diffonde e viene continuamente e costantemente usato fino alla metà dell'ottocento però è un esplosivo estremamente instabile quindi a volte capitava che i minatori quando andavano a fare i buchi e cacciavano l'esplosivo all'interno dei buchi e dovevano spingerlo con delle pertiche di legno o di metallo magari partisse una scintilla e l'esplosivo desse dei problemi e uccidesse delle persone oggi non si usa più per nulla neanche per ripetarli per capirci sì allora la polvere nera praticamente attualmente non si usa quasi più nel senso che non so io che sono appassionato di storie di storia militare ogni tanto vado a vedere degli amici che fanno il tiro ad avancarica quindi con le armi che venivano usate nell'ottocento e nel 1800 e chiaramente usano la polvere nera però nelle armi da fuoco la carica di lancio non è costituita da polvere nera ma è una la cosiddetta polvere in fume che è stata inventata da polviel nel 1884 e poi ha avuto subito applicazione militare nel 1886 che è la polvere che anche questa deflagrante che è la polvere che viene usata nelle nelle munizioni di qualsiasi di qualsiasi tipologia di armi e la dinamite invece si utilizza ancora oggi la dinamite il più antico diciamo tra gli esplosivi tuttora in corso di utilizzo sì la dinamite si usa ancora oggi se non ricordo male danilo coppe quando fa i suoi interventi non dico che usa quasi esclusivamente la dinamite perché mi parlavamo l'altro giorno mi dice che ogni tanto usa anche l'anfo e però la dinamite è sicuramente l'esplosivo più usato per esempio per tirare giù il ponte di genova ha usato un certo quantitativo di candelotti di di dinamite che sono fatti proprio come ce li immaginiamo sono fatti come ce li immaginiamo sono proprio dei candelotti esatto ok e lì come l'innesco come funziona nello specifico è uguale all'innesco della diciamo degli esplosivi quelli militari per cui c'è un detonatore elettrico ci sono due fili che arrivano in questa diciamo in questo in questa custodia che ha la forma di una immaginate una penna bic chiusa da un estremo a un'estremità all'interno c'è sia un esplosivo primario che un esplosivo secondario l'esplosivo primario è azoto a azoto idrato di piombo e l'esplosivo secondario è è il pet la pentrite che innesca la reazione quindi nel diciamo nei due fili elettrici passa la corrente viene fatto passare la corrente elettrica innesca l'esplosione e per simpatia esplode il diciamo i candelotti l'insieme di candelotti qui ho anche qualche immagine se poi la vuoi far vedere l'insieme di candelotti all'interno del quale è inserito il detonatore per cui tu hai l'esploditore che è la geggino che si vede anche nei cartoni animati di del coiote di bibib che lui schiaccia e fa partire l'esplosione perché fa partire la corrente elettrica poi c'è la linea di tiro quindi i fili elettrici si arriva al detonatore che è questa matitina metallica con all'interno l'esplosivo che può esplodere per effetto del passaggio di corrente elettrica per effetto joule c'è all'interno un filamento che si scalda e poi l'esplosione parte e poi per simpatia la carica all'interno del quale è inserito il detonatore esplode ma quando parli di esplosivo primario secondario che cosa significa cosa è primario secondario allora secondari sono questi esplosivi che sono stabili ok poi c'è ci sono livelli di stabilità diversi esplosivo primario invece è un esplosivo che non è stabile e quindi per effetto di una sorgente termica una scarica elettrica un incendio può esplodere infatti nella normativa sulla gestione degli esplosivi quando tu li porti in giro tu non puoi mai portare in giro sullo stesso veicolo l'esplosivo vero e proprio l'esplosivo secondario quindi i candelotti di dinamite e i detonatori perché metti caso che il detonatore salta ti fa saltare per aria tutto quindi devi muoverti in maniera indipendente per esempio quando c'è una demolizione questo me lo raccontava danilo quando c'è una demolizione tu non è che ti tieni non so a casa tua dei candelotti di dinamite li metti dentro nello zaino e vai a fare assolutamente no tu li devi comprare te li portano la mattina ti portano i candelotti di dinamite con un furgone con un altro furgone ti portano i detonatori fai quello che devi fare tutto quello che avanza lo devi distruggere entro la sera e per distruggere la dinamite che è quello che dicevano dicevo prima fai un bel falò brucia tu è un combustibile brucia non esplode perché è molto stabile e fai pazzesco secondo me sono cose curiose che però insomma mi sembra a me sembrano cose interessanti a me personalmente affascina cioè cose che normalmente sei abituato a vedere in televisione che vedi un sacco di cazzate poi nei film ci sono cose quando fanno vedere le esplosioni nei film c'è da ridere perché ci sono sempre queste enormi fiammate che vengono ottenute con delle grandi quantità di benzina come dicevamo prima ma è un'esplosione un'esplosione non è così il diciamo la fiamma in un'esplosione è molto molto limitata molto contenuta se voi avete se voi volete vedere cosa sono le esplosioni cosa succede durante un'esplosione potete andare a vedere quel è stato fatto una serie televisiva c'è anche su youtube ma c'è su netflix su su scusa su amazon prime non su netflix si chiama mister dinamite è fatta proprio su danilo coppe che va in giro a tirare giù delle strutture e così vedete cosa succede durante un'esplosione c'è una gran quantità di fumo e uno resta lì e dice ma come tutto qui certo tutto qui perché perché l'effetto di un'esplosione è l'onda d'urto l'onda di pressione la dirompenza dell'esplosione che abbatte le strutture interessante ma scusami tornando a quello che dicevi prima portare in giro un furgone con i soli detonatori che sono instabili per loro natura è pericoloso cioè le cariche al loro interno sono sufficienti per far esplodere il candelotto ma da sé non sono in grado di provocare danno o sono comunque oggetti pericolosi allora come tutte queste cose ma diciamo qualsiasi cosa del mondo della tecnica è intrinsecamente pericolosa se non sai come trattarla è una cosa agevole da gestire e da trattare se sai come fare io l'esempio spesso che faccio è se voi aprite il cofano della macchina e mettete le mani dove non dovete vi tagliate le dita perché ci sono degli organi anche adesso ormai è tutto chiuso è tutto coperto ma io ricordo le macchine degli anni 80 anni 90 se lì dentro le mani e qui è la stessa identica cosa venendo al discorso dei detonatori i detonatori quando vengono portati in giro sono portati in astucci particolari in custodie particolari per cui se avviene anche la detonazione all'interno di uno di questi per fatti accidentali all'interno di questi detonatori non succede nulla prima di tutto perché l'esplosivo si muove in per conto suo e il detonatore va da un'altra parte e poi non succede nulla perché rimane contenuta in quel diciamo in quell'involucro che contiene il detonatore poi la quantità di carica diciamo scusate la quantità di esplosivo che c'è all'interno di un detonatore è veramente minima perché non mi serve avere un effetto quello che quello che serve in un detonatore è sviluppare l'onda d'urto e non è che mi serve una grande quantità di esplosivo io devo far partire l'onda d'urto che si trasmette al candelotto di dinamite che è lì attaccato a fianco e salta per aria tutto e poi può esplodere tutto mi interessava un aspetto storico perché tu prima inizialmente hai detto che la dinamite è stata possibile realizzare per nobel per un'invenzione o meglio una scoperta di ascanio sobrero se dico bene chi è questo personaggio perché in realtà non si sente mai esatto perché è un italiano ci mettono sempre da pari ascanio sobrero era un medico torinese che a un certo punto sono andato a curiosare adesso non vorrei dire una cosa sballata ha insegnato anche all'università di torino quindi era un collega e era un medico che si occupava di problemi cardiaci e era riuscito a sintetizzare la nitroglicerina quindi qualunque tipo di esplosivo dinamite tnt gli esplosivi diciamo gli esplosivi propri derivano dalla nitrazione di sostanze combustibili cioè avvengono delle reazioni non approfondiamo più di tanto anche se su internet io ogni tanto resto esterefatto vedo dei video su youtube e dico ma questi sono pazzi a fare vedere con questo video come si fanno a fare delle cose che poi c'è la gente che si metterebbe lì a riprovare a farle e se non sai gestire io che gioco un po lavoro un po in un laboratorio chimico perché il mondo della metallurgia è molto a cavallo con la chimica cioè se devi stare molto attento per esempio al controllo di temperatura perché possono avvenire dei fenomeni che poi diventano incontrollabili quindi va bene chiusa questa parentesi torniamo a scanio sobrero scanio sobrero si occupava di problemi cardiaci aveva capito che aveva scoperto che i nitro gruppi cioè questi gruppi che derivano questi composti chimici che derivano dalla nitrazione delle sostanze sono dei forti vasodilatatori e la nitroglicerina che lui aveva ottenuto facendo la nitrazione di un liquido che era la glicerina lui aveva visto che andava benissimo per i pazienti che avevano problemi cardiaci perché era un vasodilatatore paradossalmente anche qui se poi vuoi far vedere la slide è interessante paradossalmente si usa ancora adesso la nitroglicerina ci sono dei farmaci voi andate a vedere c'è scritto su a base di nitroglicerina ma allora salta per aria tutto no le concentrazioni sono estremamente basse ma serve per questo motivo perché quando voi assumete la nitroglicerina per azione enzimatica viene rilasciato il monossido di azoto che è questo forte vasodilatatore quindi il nitro gruppo si decompone e sviluppa ossido di azoto che è un vasodilatatore per cui non so se qualcuno ha avuto problemi cardiaco le pastiglie sublinguali che si prendono quando uno ha un problema ecco quella roba lì a base di nitroglicerina però si era anche accorto a scanio sobrero che questa roba era estremamente esplosiva perché la nitroglicerina è estremamente è un liquido è un liquido che è trasparente tende al giallo se non è perfettamente pura però è un liquido instabile perché esempio di prima dei liquidi sviluppa dei vapori facilmente che si miscelano con con l'aria e sono esplosivi con energie bassissime e sono esplosivi di tipo detonante quindi lui si era spaventato e questa diciamo questa sua invenzione l'aveva un po messa nel cassetto sembra assodato che nobel si abbia conosciuto sobrero era avevano una ventina d'anni di differenza ha conosciuto a scanio sobrero quindi mi immagino il giovane nobel che parla con la scanio sobrero gli spiega appunto che ha questa cosa qui e pare che nobel gli abbia chiesto ma io posso usare questa cosa posso provare a vedere se riesco a dare un utilizzo industriale a questa a questa sostanza sobrero gli ha detto sì sì guarda che è pericoloso che salta per infatti ci sono diversi incidenti parecchi incidenti registrati di esplosioni dovute al trasporto della nitroglicerina quando appunto è nitroglicerina cioè liquida si chiama le persone che spostavano la nitroglicerina da un posto all'altro avevano una denominazione si chiamavano l'uomo morto che apre degli scenari comunque sobrero non vuole niente sobrero perché noi italiani lasciamo stare sobrero non vuole niente quindi ha ceduto questa questa invenzione dice guarda per me è pericolosissima addirittura in una fabbrica di nobel perché nobel aveva all'inizio dell'utilizzo della nitroglicerina nobel apre tante fabbriche vicine alle miniere in cui veniva usato per spostarla il meno possibile a un certo punto in una mini in un stabilimento di nobel c'è un'esplosione dovuta alla nitroglicerina muore pure suo fratello quindi cioè non è una cosa come dire così banale lui riesce a trovare quasi per caso il modo di flemmatizzare che vuol dire di stabilizzare di rendere meno sensibile la la nitroglicerina miscelandola con una sostanza che è un inerte lui ha provato con tante sostanze provato con il cotone con la segatura con la cellulosa una sostanza usata era per esempio la farina fossile che è una farina di roccia sedimentaria fatta di diatome anche qui c'è un'immagine se la vuoi far vedere al tuo pubblico si vede che sono delle piccole particelle molto porose per cui la nitroglicerina viene adsorbita su queste particelle si forma una massa solida che può essere gestita e la nitroglicerina automaticamente in quanto adsorbita su queste sostanze appunto le abbiamo citate insomma il cotone la segatura la cellulosa diventa meno sensibile può essere usato per fare il candelotto di dinamite una cosa banale quindi lui l'ha solo mischiata con la farina ma l'ha inventata di fatto ascanio sobrero ma ecco ma anche nel caso della nitroglicerina diciamo l'esplosione è dato dal vapore che sviluppa quindi è vera o non è vera la questione che se tu ne fai cadere una goccia si è vera e qual è il fenomeno e se tu ne allora quando qualunque oggetto cade da una certa altezza e impatta su una superficie si libera dell'energia perché comunque c'è una certa quantità di calore che si sviluppa per minima che possa essere quella è più che sufficiente per accendere i vapori del liquido combustibile cioè la nitroglicerina e dell'aria intorno per cui hai una detonazione il film più bello da questo punto di vista l'hanno fatto l'altra sera no un po di tempo fa giù la testa di sergio leone che è molto è molto fedele anche dal punto di vista esplosivistico a quello che probabilmente a quello che succede quando diciamo quando gestisci questi esplosivi ormai la nitroglicerina liquida non non esiste non si usa più si usa comunque per esempio uno deve sapere che la nitroglicerina è adsorbita su queste sostanze perché quando il candelotto di dinamite per esempio sta per troppo tempo ad alta temperatura la nitroglicerina comincia a trassudare dal candelotto e diventa pericoloso perché si separa la frazione solida dalla frazione liquida la nitroglicerina torna in fase liquida e diventa estremamente pericoloso e anche quando ghiaccia e anche quando si raffredda ci sono dei fenomeni cristallizza la nitroglicerina la nitroglicerina cristallizzata è molto instabile e quindi anche quella per banalmente se rompi meccanicamente questi cristalli esplodono ma si usa anche solo industrialmente o anche militarmente no militarmente militarmente no militarmente si usa il quello che si chiama tnt credo che l'abbiate visto tutti in qualche film che è il tri nitro toluene quando c'è la parola nitro vuol dire che è un esplosivo di qualcosa tri nitro vuol dire tre volte nitrato che è stata fatta la nitrazione in tre punti diversi del composto chimico che si chiama toluene infatti tnt sta per tri nitro toluene che tutti chiamiamo volgarmente tritolo il candelotto di tritolo è dovuto a un altro un altro scienziato che è julius wildbrand che l'ha scoperta successivamente tra l'altro anche qui cosa interessante tutti questi composti sono coloranti hanno un colore giallo e quindi venivano usati anche molto per colorare i tessuti wildbrand facendo dei lavori in questo settore qui poi si è accorto che era anche una sostanza esplosiva chi era vestito di trinito toluene il tnt il tnt è molto più stabile della nitroglicerina il tnt ha anche un altro grosso vantaggio il tnt fonde a 80 gradi 81 gradi per cui se tu vuoi riempire un involucro non è che devi che so modellare una un esplosivo plastico niente lo porti a fusione lo coli all'interno dello stampo e hai la possibilità di di ottenere la forma che vuoi poi è estremamente stabile molto più stabile a un intervallo all'interno alle temperature d'esercizio da molto freddo a molto caldo è stabile e quindi per i militari va benissimo i militari sono quelli che per loro natura maltrattano più di tutti gli altri gli esplosivi voi provate immaginare se ci fosse una guerra non è che puoi star lì a maneggiare le cose con il bilancino e quindi tu devi avere la sostanza più stabile di tutti infatti il tnt si è così diffuso nel mondo militare proprio per questo motivo quindi lo porti a 80 gradi senza problemi lo puoi scaldare se ci vai con un accendino quello succede quello di tutti gli esplosivi propri stabili anche questo è un esplosivo secondario quindi va innescato con un detonatore non succede nulla perché per sua natura è così cioè esplodono soltanto quando gli arriva addosso un'onda d'urto un'onda d'urto rapida molto veloce energia sufficiente con una velocità supersonica per cui questa onda d'urto che è generata dal detonatore e azotidrato di piombo e pentrite parte la detonazione lì la detonazione si trasferisce al alla massa di esplosivo complessivo e allora hai gli effetti significativi quindi potrei infilarci anche un petardo dentro non salterebbe in aria sì teoricamente se ti dici non lo farei io non lo farei cioè di base questi queste cose cioè non lo farei però teoricamente ma i detonatori quindi sono intercambiabili sono uguali per tutti io lo stesso la stessa matitina che infilo nel candelotto sono diversi sono diversi ok sono diversi perché una cosa curiosa interessante che vale la pena di dire sul tnt rispetto al alla dinamite che il tnt è tossico una sostanza tossica è pericolosa per la salute pericolosa anche per l'ambiente anche se non esplode dici anche se non esplode cioè una sostanza che se tu la maneggi a parte che ti rimangono le mani colorate di giallo ok discorso di prima anche l'acido picrico è un altro esplosivo che deriva dalla nitrazione del fenolo il fenolo è un combustibile nella nitrazione viene fuori questa sostanza che non si chiama nitrofenol acido picrico noi la usavamo in laboratorio per io l'ho usata perché era molto utile per fare gli attacchi chimici sugli acciai inossidabili ho fatto la mia tesi su quello e mi ricordo che quando facevo questa roba qui non è mai esploso niente all'epoca tra l'altro non sapevo neanche che l'acido picrico fosse un esplosivo però mi rimanevano le dita gialle ho capito tante cose comunque stavo dicendo perché è interessante il tnt è pericoloso di questa pericolosità è pericoloso e tossico per la sa è nocivo per cui se tu lo maneggi a mani nude ti rimangono le mani gialle poi viene assorbito nella pelle c'è la come dire la storia delle cosiddette canary girls cioè nel durante la prima guerra mondiale in inghilterra per confezionare le munizioni e gli esplosivi usavano le donne che erano rimaste a casa gli uomini erano al fronte e queste donne che maneggiavano gli esplosivi diventavano gialle e poi hanno parecchie di queste persone sono morte perché appunto è una sostanza tossica per il corpo umano è pericolosa anche questo cioè secondo me noi dobbiamo parlare di queste cose per rendere evidenti tutti questi problemi perché anche soltanto banalmente per ricordare certe persone che hanno lavorato hanno fatto quello che qualcuno gli diceva di fare e per aver fatto quello che facevano poi sono morte e hanno avuto dei problemi è giusto che noi li ricordiamo no certo assolutamente scusa questa tirata no no pacifista ma però io ci penso veramente tra i vari altri esplosivi militari ce n'è qualcuno che va menzionato perché è particolarmente interessante importante tra i vari allora di solito ci sono ce ne sono tanti di esplosivi militari che sono stati poi sviluppati successivamente per esempio l'rdx o chiamato anche esogeno o t4 c4 che sono degli per esempio in inghilterra si chiama pe4 che sta per plastic explosive 4 4 è il numero siccome ne facevano tanti il composto 1 il composto 2 il composto 3 il composto 4 funzionava allora è passato alla storia per quel sono esplosivi che sono mescolati con sostanze plastificanti e quindi si riesce a fare l'esplosivo al plastico un altro esplosivo al plastico di uso militare è ad esempio il semtex il semtex che è una miscela di rdx che è questo esplosivo di cui parlavamo questo esogeno e di pentrite è l'esplosivo al plastico del ex patto di varsavia e che poi è stato usato in diversi attentati terroristici se non mi ricordo male l'esplosione dell'aereo quello di lockerby in scozia credo che abbiano trovato tracce di questo esplosivo perché quando c'è un sito colpito da un'esplosione tu puoi risalire all'esplosivo facendo i tamponi perché l'acetone che è un solvente l'acetone scioglie praticamente tutti gli esplosivi quindi attraverso un tampone con l'acetone puoi recuperare le tracce di esplosivo e capire qual è la composizione la chimica dell'esplosivo ed è interessante perché paesi diversi usano cose diverse e così via un altro esplosivo che non è tipicamente un esplosivo militare ma vale la pena di citarlo è l'anfo l'anfo è quello che viene chiamato anche nel settore l'esplosivo dei poveri che è una miscela tra nitrato d'ammonio che è un fertilizzante e quindi uno che fa l'agricoltore ne ha grandi quantità sì però siccome la gente lo sa che può essere usato questo lo dico anche i miei studenti dicono guardate che non è che potete andare da uno e comprarvi un 20 kg di nitrato d'ammonio perché vi registrano e poi mandano comunicazione dice guarda che questo qui è venuto a comprare non è che cioè o siete uno che lo usa come fertilizzante nitrato d'ammonio mescolato con un olio combustibile per esempio il diesel e quindi è una cosa facile da fare anche per i gruppi terroristici e infatti per esempio il fronte di liberazione nazionale corso piuttosto che il l'ira piuttosto che l'alster volunteer force so che tu ti sei occupato anche cioè quando all'epoca si facevano simpatie gli uni con gli altri scusa scusa la banalizzazione ma cerchiamo di tenere come dico sempre la vita è una cosa troppo seria per prenderla seriamente quindi cerchiamo di ma anche i talebani per cui l'eta hanno usato molto questo questa tipologia di di esplosivo per esempio qui mi sono riportato due dati la l'attentato di oklahoma city c'è anche un film su su questo su questo attentato del 1995 è stato fatto con l'anfo l'attentato esplosivo oslo nel 2011 è stato fatto con con l'anfo c'è una cosa che ti voglio chiedere di cui si è parlato recentemente e ognuno ne dà una sua interpretazione quindi volevo capire con te gli ordigni o le bombe termobariche no allora detta anche bomba a vuoto quindi si dice no ma è una bomba che crea al vuoto è una bomba che non non esplode implode quindi succhia tutto quello che c'è intorno no non è così è una bomba insomma ognuno come puoi immaginare alla sua definizione che cos'è una bomba termobarica allora una bomba termobarica è una bomba che contiene un esplosivo che credo si possa capire come funziona dopo che abbiamo fatto tutta sta caricherata allora è una bomba che contiene una piccola quantità di esplosivo tradizionale e una grande quantità di un combustibile per esempio polvere di alluminio che è una sostanza fortemente combustibile che nel momento in cui la bomba esplode la polvere di alluminio viene scagliata all'intorno e miscelata con l'aria che c'è intorno e per effetto della carica esplosiva che è presente all'interno della bomba che è piccola che fa di fatto da innesco e detonatore per questa miscela che si sviluppa innesca la miscela e fa esplodere la diciamo questo enorme vapore di alluminio miscelato con l'aria quindi principio molto semplice sì di fatto qual è la differenza il problema è che il quantitativo tu immagina pensa ai volumi cioè se tu hai un proiettile un proietto di artiglieria è una certa quantità di esplosivo ogni quantità di esplosivo genera un'onda di pressione e gli effetti abbiamo capito sono legati all'onda di pressione sia gli effetti sugli esseri umani che sentono malissimo le sovrappressioni ma anche sugli oggetti sono generati da questa quantità di esplosivo quindi una quantità minimale di esplosivo sta all'interno di una carica tu ora immagina che quello stesso volume lo riempi invece di polvere di alluminio quando esplode l'involucro questa polvere di alluminio va tutto all'intorno e ti esplode una miscela di alluminio e aria che è molto maggiore quindi hai degli effetti su una scala diversa per quello che non so se sono riuscito è chiaro però ricollegandomi a quello che abbiamo detto all'inizio magari è una delle eccezioni però miscela di polveri e aria dovrebbe essere una deflagrazione esatto è una deflagrazione una deflagrazione il volume aperto in scusa in volume non confinato quindi in spazio aperto quindi è meno impattante però comunque la il quantitativo è importante quindi hai un'esplosione anche se hai in volume aperto è un'esplosione in volume libero hai un'onda di sovrappressione le onde di sovrappressione uno pensa che riprendiamo un concetto detto uno pensa che chissà quali pressioni vengono fuori ma guardate che un chilo di tritolo adesso in giro dei numeri dei dati a una distanza di un metro genera una sovrappressione di 10 bar quindi 10 volte la pressione ma a 10 metri è meno di un bar quindi cioè molto spesso gli effetti di un'esplosione che sugli oggetti sono dati dall'onda di pressione sulle persone sono date ad esempio dai dai frammenti che vengono scagliati i proiettili di artiglieria si frammentano e colpiscono le persone all'intorno quindi il danno te lo fa la scheggia le schegge te lo fa te lo fa le contusioni che tu subisci perché l'onda di pressione ti colpisce cade batti la testa cioè questi eventi anche nelle esplosioni accidentali la maggior parte della gente non muore perché è coinvolta nell'esplosione muore perché gli crolla la casa in testa è questo che succede anche negli attentati quelli recenti negli attentati nelle operazioni del dell'esercito israeliano in libano da quello che leggo in giro molte delle persone che sono stati colpiti da questi insomma mi ricordo se missili o droni muoiono credo missili muoiono perché crolla la struttura addosso l'ultima cosa poi ti lascio andare lo studio di questi fenomeni come funziona cioè quali sono gli aspetti che si possono effettivamente studiare come viene fatto come funziona perché è affascinante allora l'esercito americano dopo la seconda guerra mondiale negli anni 50 e anni 60 ha fatto una attività incredibile di sperimentazione usando il tritolo ha fatto esplodere cariche di tritolo di quantitativo differente ed è andata a vedere a distanze via via crescenti dall'epicentro dell'esplosione quali fossero i picchi di pressione che si raggiungevano man mano che ci si allontanava il picco pressorio tende a ridursi e in quanto tempo l'onda d'urto arrivasse a quella distanza quindi c'è un si chiama impulso pressorio che è il prodotto del tempo per la pressione e livello pressorio che è il livello massimo di pressione raggiunta bene analizzando questa cosa perché è interessante perché tu noti gli effetti che sono quelli che vedi normalmente tu normalmente non sai cosa diavolo è successo quando vai a valutare un sito colpito da un'esplosione sia un'esplosione accidentale ma anche un'esplosione dovuta a un esplosivo militare o un esplosivo di uso civile come come la dinamite cosa vedi tu vedi gli effetti allora ed è anche uno dei motivi per cui mi interessano l'esplosione siccome è lo studio dei materiali quando tu vedi gli effetti tu vedi un materiale che è rotto in un certo modo con una proiezione di frammenti a una certa distanza tipicamente i vetri il vetro ha delle pressioni di collasso e i frammenti di vetro a seconda della tipologia di vetro perché i vetri non sono tutti uguali viene proiettato una certa distanza bene sapendo avendo contezza di questi parametri che tipo di vetro era a che distanza sono stati proiettati i frammenti tu puoi risalire al livello di pressione che nel punto in cui si trovava il vetro è stato raggiunto siccome l'epicentro dell'esplosione di solito vedi dove è tu hai anche la distanza dall'epicentro di questo fenomeno siccome hai tutti gli studi americani che correlano il picco pressorio con la distanza dall'epicentro puoi risalire alla quantità di esplosivo che ha generato quel fenomeno e quindi sono tutta una serie di cose che ti permettono di fare dei calcoli in un senso e nell'altro qual è la quantità di esplosivo che devo usare per produrre certi effetti quando vedo certi effetti quali sono qual è la quantità di esplosivo che me li ha generati tipicamente quando non lo so mi è capitato in passato quando ti chiede un magistrato un giudice di determinare non lo so sono le domande tipiche qual è la sostanza esplosiva responsabile dell'evento e dove è situato l'epicentro dell'esplosione qual è la quantità della sostanza esplosiva perché vogliono sapere ad esempio per quanto tempo è andata avanti la perdita di gas in una casa la natura e la quantità della diciamo della sostanza esplosiva è sufficiente per spiegare gli effetti osservati da dove proviene questa sostanza sono un po le domande che ti fanno questa roba qui ti serve per diciamo mettere insieme tutti gli elementi del puzzle non so se sono riuscito però è una cosa che puoi fare cioè perché ci sono dei diagrammi per cui puoi calcolare in funzione del quantitativo di esplosivo gli effetti o il contrario prendi gli effetti e risale il quantitativo di esplosivo poi ogni esplosivo ha un'energia diversa cioè l'energia che libera ogni esplosivo per effetto dell'esplosione è diversa ovviamente gli esplosivi militari o gli esplosivi civili detonanti liberano quantità di energie molto maggiori gli esplosivi deflagranti o le esplosioni accidentali liberano quantità di energie molto minori ma non è che puoi calcolare con una precisione millimetrica i fenomeni ma come ordine di grandezza cioè se il quantitativo di gas che è uscito era due metri cubi o venti metri cubi te lo dice un approccio di questo genere quindi come ordine di che è importante cioè alla fine gli ingegneri visto mi facevi la domanda all'inizio gli ingegneri devono cercare di chiarire il perimetro all'interno della quale certi fenomeni si possono essere verificati ecco questo mi sembra un modo un modo per per descrivere la cosa queste sono anche le cose che racconto ai miei studenti ci mettiamo lì a fare qualche esercizietto gli faccio vedere poi no no mi piace perché l'approccio ingegneristico diciamo dovrebbe essere adottato anche in altri ambiti io credo perché la vero simiglianza a capire l'ordine di grandezza di una cosa è fondamentale ho un'ultima curiosità che cosa sono i chilotoni è un'unità di misura della quantità è quello che dicevo un attimo fa della potenza di un esplosivo in migliaia di tonnellate di tritolo che è l'esplosivo di riferimento si prende come riferimento quello lì e poi in funzione della differente energia delle e quindi anche le esplosioni nucleari che sono una cosa molto più importante dal punto di vista energetico tu la puoi rapportare a queste tipologie di esplosivi però non mi chiedere nulla sull'esplosione nucleare perché non sono uno specialista ti mando qualche amico di ingegneria nucleare che mi sa sicuramente molto di più bene scusami no no è giusto è un fenomeno diverso e quindi è tutta altra questione bene marco credo che abbiamo detto tutto speriamo che il tuo pubblico non si sia annoiato è stata molto divertente secondo me salutiamo tutti salutiamo tutti gli amici so che magari ci sarà anche qualcuno che mi conosce mi ha seguito e se qualcuno vuole iscriversi al corso di laurea in ingegneria meccanica e fare l'orientamento difesa e sicurezza io lo accolgo a braccia aperte ottimo quindi poi abbiamo fatto anche lo spot pubblicitario finale esatto esatto www.poliemi.it bene grazie mille ma che è stato un piacere è stato molto divertente oltre che istruttivo e sicuramente molto apprezzato ti ringrazio molto grazie a te e grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti